Il nostro vero crucio è, riaprirà a settembre le naidi? Le società sportive che avevano casa nell'impianto le naidi di Pescara temono che le piscine non riapriranno nemmeno a settembre. Tra queste c'è il club acquatico che ha dovuto trovare ospitalità nelle altre strutture del circondario. La squadra di pallanuoto affronterà i play-off per salire in A2 ma rischia di rimanere senza la piscina per le gare interne. Per noi è un semidisastro perché le attività e il numero degli atleti sono talmente tanti che non riusciamo a compensare solo con l'attività qui nella piscina provinciale. Tenete presente che quest'anno per larga fetta dell'inverno con le attività agonistiche ci siamo dovuti appoggiare alla piscina di San Buceto che chiaramente ringraziamo. Ma in questo momento stiamo andando anche alla piscina di Chieti che ha riaperto e addirittura da domani iniziamo anche alla piscina di Francavilla. Quindi sostanzialmente stiamo un pochettino sondando tutte le piscine del circondario per riuscire a dislocare le nostre attività, in particolare quelle che hanno bisogno dell'acqua profonda perché la piscina provinciale è una piscina di quartiere, ha una profondità bassa. In merito al discorso della palla a nuoto noi dovremmo disputare i playoff ancora non si sa se riusciremo almeno a farli a Chieti ma noi abbiamo fatto un campionato sempre in trasferta giocando alla piscina del passetto di Ancona e quindi c'è un problema oggettivo immediato perché sono costi incredibili che abbiamo dovuto sopportare. Meglio una gestione privata seppur temporanea piuttosto che quella pubblica sostiene il presidente Fustinoni altrimenti si rischia di perdere settimane preziose. Noi non siamo né contro regione né contro comune noi abbiamo solo la paura del tempo perché oramai mancano 15 giorni, questo deve essere chiaro per tutti per decidere se le piscine si riapriranno ma non quest'estate ma a settembre la programmazione, non solo l'apertura delle vasche ma la programmazione commerciale e organizzativa e le persone di riferimento devono essere coinvolte in questo momento fra 15 giorni, se passano questi ulteriori 15 giorni non riapriremo neanche a settembre oramai la stagione estiva che molti dicono è alle porte è già andata, la soluzione potrebbe essere quella di trovare il soggetto pronto a gestire nel frattempo poi mi pare chiaro che la previsione della regione già da due anni a questa parte era quella di trovare dei finanziatori in questo caso c'è questo Benedetto Project che va in giro da parecchi anni è stato presentato da un nome di spicco come Amedeo Pomilio che è sicuramente una garanzia per tutti in maniera trasversale poi andrà a gara però l'importante è che la regione faccia presto ad approvare questo ITER grazie a tutti